Oggi sicuramente è una giornata anche di bilanci, i risultati della Polizia di Stato sono sotto gli occhi di tutti, c'è un grande lavoro, c'è una grande professionalità, un grande impegno, c'è anche però una difficoltà proprio di raggiungere questi risultati grazie proprio al discorso della carenza d'organico che è molto elevato. Ci sono dei nuovi arrivi di ragazzi giovani, li vediamo nelle nostre strade, sicuramente non riescono a colmare quello che è stata una politica di 15 anni di tagli completamente sbagliata e noi auspichiamo che si intervenga con dei provvedimenti atti all'assunzione di ulteriori giovani proprio per dare ancora maggior forza a quella che è la nostra azione quotidiana.